What the fuck, Anna, se hai fatto il tappeto Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Cos'è sta cosa? Se io ho fatto il tuo tappeto Ma perché? Perché l'hanno messo? Te l'hanno spawnato sopra Fuck you, bitches! Buongiorno a tutti i miei nomi Tizia parti Ciao ragazzi sono Alex e benvenuti in questo nuovo video E c'è una tipa dietro di noi che sta rompendo i c***o Comunque sono quanti... Due tipi C'è un coso rosa Secondo me ha tipo qualcosa in testo che sta a voi scegliere cosa sia Non so cosa sto dicendo Comunque adesso facciamo un'intro seria Ciao ragazzi sono Alex e benvenuti in questo nuovo video Sono un contizio venti Wow! Ciao! Anna! E siamo negli... Non so in che server ve lo scrivo in descrizione Dai lasciamo stare sta parte non la so fare Clicca sulla bussola, su! Ok ok siamo arrivati nella speed of hc Non c'è un c***o di albero Ok perché non sapesse le differenze tra la speed of hc Aspetta più chiamo questi conigli che ci danno la carne Io vado a prendere il legno donna Sta fermo un attimo sto facendo vedere una cosa Fermo fermo Ecco Ci da... ci da direttamente la carne Pallo cotto e quindi il lingotto Quindi in sostanza sono al villaggio Sono al villaggio verso i funghi Verso i funghi Entro nella foresta Ci sono i funghi Ah i funghi con lì gigante ok Fatti sto buco per favore Qua c'è una caverna Però a me non piacciono le caverne in questo momento Perché so come può finire Ci conviene andare in una caverna lo sai? Ma che c***o ma che c***o che è Allora Allora ho trovato altro tantissimo ferro Quanto ferro ti serve? Perché qua ne ho tipo 30 Demi Ok Ho preso tura Oh oh Ecco adesso è venuto Ho trovato il diamante Quanto c***o sei Quanti diamanti Quanti diamanti Allora no aspetta vieni qua vieni qua vieni qua Quanti va a scavare intorno Io sono sicuro Ci sono altri Faccio una spada Che c***o quanti diamanti zia Lava Tanta lava Mamma mia Dai adesso trovo i diamanti Me lo sento Dai Dio Hermene Gildo Dammi i diamanti Il potere di diamanti Allora Se qua ha trovato l'oro Ho 11 di oro Scommerci Dai No toliti Cerca Dai Diamanti 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 Sì 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 Prendili Sì Ok 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 Faccio la war bench qua Faccio la war bench qua 10 secondi 10 secondi Possiamo farcela anche se Anche se siamo al deathmatch Quindi Tieni VOLLO Ho paura Ho paura che poi si droppa Ok Adesso li rifaccio Posiziono la war bench per terra Attacchi te Ok Vieni qua intanto Quali utilizzo Quali ti metti quelli più intelligenti Allora Ho 10 diamanti Vediamo il corpetto Stai riccando te No guarda Ok ok Allora Prenditi il corpetto Prenditi il corpetto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua dove sono io Fuga Fuga tattica Fuga tattica Fuga tattica Ah no la sua Vieni diamante Ho paura Anna Aspetta Se metti Se metti gli stivaletti Quali stivaletti Nell'acqua Quelli di prima Vieni qua Vieni qua Nell'acqua sei più veloce È vero Non so perché È un bar No Perché Ok ti ho fatto la Mela d'oro La mia mela d'oro Io vado dritto Vado dritto Dritta Oh guarda Io li prendo dall'alto Io li prendo dall'alto Gli altri Aspetta Aspetta Anna Anna Oh Ah Buola 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 Ho mancatissimo Con la freccia Vai Anna Vai Anna Guarda che se si gira Non mi ammazzano Io ti ammazzo Perché Dovrebbe succedere Una cosa del genere Dovrebbe mangiare Fra poco Dovrebbe mangiare anche lui Oh Momento lag Oh Momento lag Oh Momento lag Oh Momento lag Aiuto dietro 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 Non posso farlo Dietro No Ti ho vendicato Mi dispiace Anna Potevi dirmelo un po' prima Io ti mi viola Testa Ma stavo laggando Stavo laggando Ho la testa di Anna Ma che palle Mi dispiace tantissimo Anna Io ti voglio tanto bene Cioè Tre Non è vero Potevi dirmelo tre secondi prima Inizierò a cantare Siamo rimasti solo io e lui Io e lui Lo scontro a finale Muori Muori perché non mi hai salvato Io ho tentato di salvarti Dai dai che vince Su vince per noi Dai tizio Oh Era girato Era girato Questo qua non ha liste valetti messi Dai tizio dai Oh Tizio Sì Sì Ho vinto Sì Ho vinto Un HG La bellezza Ho con la testa di Anna Oltretutto Spero che questo video Che vi sia piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare come sempre Un like Un commento Iscrivetevi al canale di Anna Che trovate in descrizione Insieme a tutti i social network Ed attenzialmente Anna è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti E adesso Anna devi dire Che le esco Anche Ma devi dire Dai Cos'è che dico a fine video Io Anna Perché sei Tra anche te No Dico Devi fare Brava Così va meglio